Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Affrontiamo quest'oggi il capitolo dodicesimo del libro dell'Apocalisse. Per chi ha il mio testo, il Cavaliere, l'Amata e Satana, siamo a pagina 121 e seguenti. Prenderei le mosse da un'esperienza umana, quando una melodia musicale è bella, ha la capacità di colpire un po' tutti. Certo, i gusti sono gusti, eppure chissà perché ci sono dei brani musicali che penetrano nel cuore delle persone, anche se magari la maggior parte di loro non se ne intende di musica. Persino nel cuore dei bambini certe melodie si imprimono. Ebbene, un vero compositore scrive musica per tutti, non solo per gli iniziati, per gli esperti. E anche l'autore dell'Apocalisse ha scritto questo suo testo per tutti i cristiani dell'Asia minore, per le sette chiese dell'Asia minore. Sette è il numero della completezza. Dunque, idealmente anche per le chiese a venire, non solo per le sette chiese, per tutte quelle comunità cristiane dell'Asia minore della fine del primo secolo dopo Cristo, naturalmente. E anche il brano dell'Apocalisse, che stiamo per leggere insieme adesso, cioè appunto la prima parte del capitolo dodicesimo, ha qualcosa della potenza comunicativa della musica. Vi dicevo, un testo, quello dell'Apocalisse, che va vissuto in un Sitz in Leben liturgico, in un contesto di vita liturgico, se non addirittura eucaristico. Quindi con gli inni, con dei canti, dice così, il settimo angelo, siamo in Apocalisse 11-15, il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo eccheggiarono voci potenti. E mentre suona la tromba dell'angelo e si inizia a inneggiare a Dio, a Cristo, si scatenano però tutti gli elementi dell'universo. E' come se si squarciasse il cielo e, scrive sempre Giovanni, occhi per lui, e apparve nel cielo un grande segno. Una donna, traduco letteralmente dal greco, vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla sua testa una corona di dodici stelle. Quindi all'efficacia espressiva della musica, il suono della tromba, si aggiunge la potenza, forse ancora più comunicativa, della visione, della visione profetica. Se già la musica è capace di coinvolgere anche le persone più semplici, persino i bambini, tanto più la visione. Lo sappiamo bene di questi tempi. La visione, soprattutto la visione fantastica, permette di entrare in un altro mondo, un'altra dimensione di vita. Anche per l'Apocalisse è un po' così. I cristiani perseguitati e martirizzati, della fine del primo secolo dopo Cristo, i cristiani che venivano martirizzati dall'imperatore Domiziano, che voleva farsi adorare come un dio in terra, avevano bisogno di un mezzo, in qualche modo, per entrare in una nuova dimensione, non per evadere nell'utopia del Regno dei Cieli. Questo no, ma per scoprire il senso delle sofferenze, dei patimenti che stavano affrontando in quel periodo della storia. E il senso dei dolori che stavano affrontando, come lo stesso Giovanni, per testimoniare Cristo. Quindi per rifiutare il culto dell'imperatore e più in genere il culto idolatrico imposto dall'imperatore. Avevano bisogno i cristiani di allora di intravedere, in quel periodo oscuro della fine del primo secolo, di intravedere la volontà salvifica di Dio su di loro. E quindi facevano l'esperienza della paura, del terrore. E quando si ha paura, non importa però capire tutto. Ciò che conta è, nell'oscurità, vedere un po' di luce. Come quando, non so, c'è un temporale di notte e il bambino se ne sta impaurito sotto le coperte. Basta che arrivi sua madre, accenda la luce della stanzetta e magari recita insieme al bambino una preghiera e il bambino torna a dormire tranquillo. Non servono dei discorsi scientifici sul temporale, sulla formazione dei tuoni, dei fulmini. Basta solo un po' di luce. Basta il volto affettuoso di una madre e il bambino capisce che può stare tranquillo. Intuite allora il clima, l'atmosfera che Giovanni vuole creare in questo momento del suo libro. Fin dalle prime battute di questo brano, lui cerca di comunicare speranza. Squilla la tromba del settimo angelo e si inizia a pregare. E così, nonostante le brutture dell'epoca che stavano vivendo quei cristiani, Dio stesso si fa vivo da un segno del cielo. una madre, una luce di speranza per permettere ai cristiani perseguitati, martirizzati di allora di continuare a perseverare nella fede, malgrado tante avversità. Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo, ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto, una tempesta di grandine. Ecco, in questo caos della storia, questa è l'impressione che l'autore vuol comunicare, in questo caos della storia, che non si capisce nemmeno dove ha la sua causa, in cielo, in terra, è un castigo di Dio, è dovuto alle colpe degli uomini. Ecco, in questo orizzonte oscuro apparve nel cielo un grande segno, una donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi. Le visioni profetiche dell'Apocalisse, insomma, non stanno lì a spiegare cosa sia la speranza, quali siano i motivi teologici per vivere secondo la speranza, no, la fanno sentire dentro, la fanno percepire interiormente. E se la speranza, a causa del caos della storia, si è assopita dei cristiani, le visioni profetiche dell'Apocalisse sono lì a tentare di risvegliarla, rinvigorirla. Lasciamoci allora anche noi coinvolgere da queste visioni, attingendo da questo libro un po' di speranza nella nostra epoca. Anzitutto, la cornice di questa visione celeste, di questa visione profetica che, a mio avviso, Giovanni, esiliato o in prigione nell'isola di Patmos, ha sperimentato, ha vissuto interiormente. A questo punto del libro si conclude la cosiddetta sezione delle trombe dei sette angeli. Più esattamente questa sezione termina in Apocalisse 11-14. Al suono della settima tromba angelica appaiono in cielo tre segni. Una donna vestita di sole, avete sentito, ma poi vedremo anche un drago e infine sette angeli con sette coppe, le coppe dell'ira di Dio. Si apre così, appunto, la sezione definita dagli autori oggi dei tre segni che va da 11-15 fino a 16-16. Dei tre segni. In greco, semeion significa segno, ma attenti, non significa tanto miracolo, portento. segno indica una realtà che comunica qualcosa d'altro, una realtà che quindi va decodificata, un messaggio che va interpretato, una profezia, appunto. Quindi l'assemblea cristiana che di domenica, come ci ha detto l'autore, fin dall'inizio della sua opera, durante la celebrazione eucaristica, sta ascoltando la proclamazione del libro dell'Apocalisse, deve a questo punto cercare di decodificare questi tre segni. Segni alla fine di rivelazione. Segni che suscitano, peraltro, una notevole curiosità. Anche perché dal primo segno si dice che è un grande segno ed è in cielo. Tenete a mente che l'autore stesso dell'Apocalisse sta guardando tutto dal cielo, potremmo dire. Lui stesso dice due volte nel suo testo e genomen en pneumati, all'inizio e poi nel capitolo quarto, divenni in spirito. Quindi sta facendo un'esperienza che potremmo dire mistica o profetica. è come se fosse assunto in estasi. Come a dire, per grazia di Dio, per dono dello Spirito Santo, per carisma profetico, sto cercando di intravedere nell'intera storia umana ciò che Dio desidera adesso da noi. Mi sto mettendo dal suo punto di vista. sto guardando la vita dal punto di vista del mondo dei risorti. E da questo punto di vista privilegiato, Giovanni è messo da Dio in grado di vedere anche la direzione salvifica della storia, soprattutto di quell'epoca. E così Giovanni può scrivere appunto un libro profetico, come dice all'inizio e alla fine del suo testo, in perfetta inclusione, e quindi tutto il suo libro, è una serie di profezie. Profezie capaci di fare apocalisse. Il libro è l'apocalisse di Gesù Cristo, cioè la rivelazione di Gesù Cristo in quell'epoca. Detto altrimenti Giovanni, per carisma ricevuto dallo Spirito Santo, riesce a togliere il velo delle apparenze da sopra la storia. Apocalisse. Apò, via da, calumma, velo. Apocalipsis, apocalisse. Togliere il velo delle apparenze che sta sopra la storia. E svelando la storia, Giovanni rivela cosa stia facendo veramente lo Spirito Santo sotto il velo delle apparenze, con grande discrezione, ma anche con estrema efficacia. Ascoltate ciò che lo Spirito dice alle Chiese. E i destinatari, infatti, fanno questo. I destinatari sono invitati, mentre celebrano l'Eucarestia, ad alzare anche loro lo sguardo verso il cielo, proprio perché il grande segno viene dal cielo, per cui è qualcosa di trascendente, di divino, viene da Dio e quindi obbliga i cristiani a tentare di capire, di far discernimento spirituale, cioè sotto la guida efficace dello Spirito Santo. Ed ecco cosa iniziano a vedere, rappresentato dal profeta. Una donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi e sulla sua testa una corona di dodici stelle. Come si fa a comprendere un segno che apparentemente è semplice, ma in realtà, lo capite subito, ha una sua complessità. Perché? Perché si intuisce che questi particolari non siano messi lì per bellezza, non abbiano un carattere decorativo. Sono anch'essi parte del segno, quindi comunicano un messaggio. Come decodificare questa profezia? Per farlo bisogna ricordare che le visioni dell'Apocalisse, come le visioni dell'Antico e le altre visioni del Nuovo Testamento, per certi versi, come certi nostri sogni, pescano i loro elementi costitutivi per gran parte dal passato. Sono le visioni dell'Apocalisse come un castello della speranza, perché questo vuol fare l'autore, essere un architetto della speranza, donare speranza. Quindi queste visioni sono come un castello della speranza che però è stato costruito con dei materiali, con delle pietre antichissime che Giovanni è capace di riutilizzare, o meglio, che nascono dentro di lui, visto che si è formato nel grembo dell'Antico Testamento. Infatti, nell'Apocalisse, tanti particolari simbolici sono attinti da testi profetici e apocalittici dell'Antico Testamento, in modo particolare dal libro di Daniele e poi, ancora di più, dal libro del profeta Ezechiele. Il libro del profeta Ezechiele è il testo più citato in assoluto dall'Apocalisse. Ma poi l'Apocalisse risente anche dell'influsso di un ricchissimo filone della letteratura giudaica che era appunto l'Apocalittica giudaica, che non entrerà nel canone scritturistico né cristiano né ebraico, ma che era conosciuta ai tempi di Giovanni. Questo autore, molto probabilmente, dipende da questa corrente giudaica, è cresciuto all'interno di questa corrente giudaica. E quindi Giovanni, come un architetto onesto, non teme di confessare, di aver preso per costruire questo castello della speranza che è il suo libro, delle pietre da altri tempi. Ad esempio, parlerà subito del grande drago rosso. Questa è la seconda grande visione del capitolo dodicesimo. Ma con grande umiltà lui lo identifica dicendo è il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra. quindi si capisce al volo che sta facendo riferimento al testo di Genesi 3 dove si parla appunto di questa creatura astutissima che è il serpente. Per i cristiani dell'epoca a cui è indirizzato questo testo, per i cristiani della terza generazione, siamo alla fine del primo secolo, siamo negli anni 90 e questi simboli parlavano, erano cresciuti all'interno di una mentalità biblica. I nonni avevano già raccontato le storie della Bibbia ai nipoti. Ma appunto, torniamo con questa precomprensione alla prima visione, la donna. Nell'Antico Testamento la figura della donna ricorre in diversi passi per designare la comunità giudaica, per designare l'Antico Israele che il Signore prediligeva tra tutte le altre nazioni della Terra come uno sposo fedelissimo la sua sposa. La sua sposa talvolta, anzi, tante volte infedele. Quindi, la comunità cristiana che è durante l'Eucaristia dominicale sta ascoltando la lettura dell'Apocalisse può già iniziare a capire, può già iniziare a rispecchiarsi in quella donna popolo di Dio dell'Antico Testamento. Ebbene, nell'Antico Testamento soprattutto la città di Gerusalemme era immaginata come la sposa del Signore che era invitata, pensate a tanti testi del profeta Isaia ma anche ai Salmi, era invitata da Dio stesso a rivestirsi della gloria di Dio, della salvezza di Dio, sorgi, rivestiti di luce e anche qui nell'Apocalisse Dio stesso ha rivestito questa donna di sole. Il sole per l'Antico Testamento ma anche per il Nuovo Testamento evoca Dio stesso. È la creatura più vicina a Dio. dice Gesù Dio fa sorgere il suo sole vedete il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni. Lo stesso volto di Gesù durante la trasfigurazione brillò dicono gli evangelisti come il sole e Giovanni nell'Apocalisse va oltre perché contemplando Cristo crocifisso e risorto contemplando l'agnello sgozzato marito in piedi vede che il suo volto dice somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza. Quindi Dio ama a tal punto questa donna che è la comunità dell'antica e della nuova alleanza in cammino verso di Lui Dio l'ama a tal punto da rivestirla di ciò che ha di più bello della luminosità del suo sole e del resto l'amore non rende simili gli amanti. Ecco anche qui l'amore assimila l'amata all'amante la sposa la comunità dell'antica e della nuova alleanza allo sposo il Signore. Ma poi questa donna popolo di Dio ha la luna sotto i suoi piedi. Sapete che a quell'epoca i calendari più diffusi erano i calendari lunari cioè si calcolava il passare del tempo partendo in gran parte dai cicli lunari appunto. Quindi la luna dice un riferimento simbolico al tempo però però il tempo di solito nel suo scorrere inarrestabile lo sappiamo magari anche per esperienza personale domina l'essere umano. Qui invece è la donna popolo di Dio che ha la luna sotto i suoi piedi che sovrasta quindi la luna. Dunque è lei che domina il tempo non è il tempo che domina su di lei o meglio la donna vive nel tempo chiaro a questo punto del libro dell'Apocalisse c'è ancora la luna dico c'è ancora perché più tardi nella visione conclusiva della nuova Gerusalemme che scende dal cielo la luna non ci sarà più ma appunto lì saremo nell'escaton alla fine della storia qui siamo ancora in cammino il popolo di Dio vive nel tempo attraversa la storia però però la sua meta è al di là della storia il tempo non domina la donna e Gesù stesso in fondo vi ricordate aveva insegnato ai suoi discepoli a vivere in equilibrio in un continuo equilibrio tra l'amare la terra con i beni e le persone che Dio ci dona per attrarci verso di sé e il non lasciarsi imprigionare però dai beni della terra perché è perché il nostro bene ultimo è lui è Dio perché perché là dov'è il nostro tesoro diceva Gesù là deve essere il nostro cuore è il nostro tesoro più prezioso però non sono i doni di Dio ma è Dio stesso voi siete nel mondo aveva insegnato Gesù nei discorsi da Dio nell'ultima cena voi siete nel mondo ma non siete del mondo Giovanni 15 perché è perché Cristo è di lassù e noi amiamo Cristo come dirà l'Apostolo Paolo fratelli vive ai filippesi dal carcere in un momento crocifiggente della sua vita fratelli questo soltanto so dimentico del passato e proteso verso il futuro vedete corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù insomma la Chiesa cammina nel tempo ma non è prigioniera del tempo perché la sua meta è il Signore Risorto la Chiesa vive all'insegna di quello che insegna un proverbio africano che dice così bisogna agganciare l'aratro a una stella e l'Apocalisse rivela la nostra stella la stella radiosa del mattino non è altri che Cristo risorto perciò i cristiani devono imparare sempre di più ad agganciare l'aratro delle loro occupazioni anche preoccupazioni quotidiane alla stella che è risorto che appunto grazie al suo spirito ci aiuta a cercare le cose di lassù e quindi a fare dei frutti di carità che restano per sempre al di là anche del confine della morte agganciare l'aratro delle nostre occupazioni e preoccupazioni a una stella ed è così che in questo orizzonte non imprigionabile nella storia la donna popolo dell'antica e della nuova alleanza ha una corona di 12 stelle sul capo è contemplata così e anche questo elemento non è semplicemente decorativo le stelle lo sapete sono un simbolo cosmico già ben diffuso nell'antico testamento come in tutte le culture dicono la trascendenza di Dio le stelle stanno in cielo e in tutte le religioni Dio abita nei cieli al suo trono nei cieli quindi anche questo particolare ci conferma quanto abbiamo detto fino adesso cioè che la chiesa è nel tempo ma non è imprigionabile nel tempo ha una trascendenza dentro di sé non è un caso allora che nella prima parte dell'Apocalisse nelle lettere alle sette chiese dell'Asia minore Cristo stesso attraverso il suo profeta Giovanni si rivolge all'angelo della chiesa cioè alla guida angelos non nel senso dell'essere appunto celeste dello spirito trascendente angelos nel senso dell'inviato nel senso di colui che è inviato da Cristo ad annunciare la sua parola la parola di Dio e infatti Giovanni precisa le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese cioè le guide delle comunità cristiane sono stelle potremmo dire perché non sono semplicemente persone che devono dirigere un'istituzione umana anche questo ma sono inviati dal cielo sono guide mandate da Dio sostenute dallo spirito del risorto in questo senso sono stelle ecco le stelle sul capo della donna popolo di Dio dicono questo e formano una corona chiaramente un simbolo di vittoria anche Cristo risorto nella grande visione del capitolo sesto la visione dei quattro cavalli con i quattro cavalieri Cristo risorto viene rappresentato come il primo cavaliere sul cavallo bianco bianco dice la trascendenza della sua risurrezione e l'autore lo contempla come un cavaliere che aveva un arco quindi una potenza per lottare e sconfiggere le altre forze le forze del male il cavallo rosso le guerre le stragi il cavallo nero le ingiustizie socio-economiche il cavallo verde la morte Cristo ha un arco e le sconfigge e poi dice l'autore fu consegnato fu dato al cavaliere sul cavallo bianco una corona e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora è risorto che continua a vincere le forze del male nella storia ma appunto questa corona di Cristo sarà data in premio alla donna popolo di Dio alla fine dei tempi quando prenderà parte alla stessa gloria di Dio nel mondo dei risorti fin d'ora grazie alla vittoria del crocifisso risorto è vittorioso e continua a vincere ancora la corona è già pronta per la sua sposa tant'è vero che nella lettera alla chiesa di Smirne Cristo stesso dice a questa comunità non temere ciò che stai per soffrire ecco il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci giorni sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita vedete questo premio è già pronto per quella chiesa particolare perseguitata martirizzata ma direi di più è già data è già pronta per la chiesa in quanto tale cioè il popolo dell'antico e del nuovo testamento come appunto lascia prevedere questa visione profetica un popolo costituito dalle dodici tribù di Israele e anche dai dodici apostoli ecco le dodici stelle dicono che ormai è un popolo unico quello dell'antica e della nuova alleanza infatti quando alla fine del libro nella visione conclusiva Giovanni contemplerà la Gerusalemme celeste la nuova Gerusalemme che scende dal cielo che ha il tocco di Dio quindi il popolo di Dio che ormai è giunto alla fine dei tempi ed è pronto per l'unione definitiva con il risorto stesso il profeta noterà che questa città ha dodici porte che sono identificate subito con le dodici tribù di Israele e queste porte però sono rivolte a tre a tre verso i quattro punti cardinali quindi la chiesa che è un unico popolo di Dio che coinvolge tutte le nazioni della terra non solo ma dice l'autore le mura della città con queste dodici porte poggiano su dodici fondamenta sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello quindi nella gloria di Dio ci sarà un unico immenso popolo di credenti in cui faranno un tutt'uno sia il popolo di Israele con le sue dodici tribù sia la chiesa guidata dai dodici apostoli e tutto questo sarà come vedete la potenza delle immagini sarà come una corona di dodici stelle non di ventiquattro di dodici perché ormai è un tutt'uno quel popolo di credenti questo è il primo fotogramma diciamo così della visione una figura femminile serena ieratica gloriosa ma questa serenità si inclina subito si inclina subito perché Giovanni scrutando bene vede che la donna è incinta non solo dice letteralmente il testo che urla partorendo ed è tormentata nel dare alla luce anche questa immagine è una pietra che l'autore attinge dall'antico testamento per costruire il castello della speranza si vede che l'autore fa riferimento a quei testi in cui il popolo di Dio era figurato come una madre una madre che è glorificata nell'antico testamento perché è molto feconda di figli da tanti figli a Dio però però il passo dell'antico testamento a cui fa riferimento l'apocalisse di Giovanni non esprime questa fecondità anzi il contrario esprime la sterilità di Israele e questo passo è Isaia 26 17 18 non a caso definito dagli autori contemporanei come l'apocalisse di Isaia e questo passo dice letteralmente così come una donna incinta che sta per partorire si contorce e grida nei dolori così siamo stati noi di fronte a te signore abbiamo concepito sentito le doglie abbiamo partorito vento non abbiamo portato salvezza al paese e non sono nati abitanti nel mondo terribile questo brano si immagina appunto l'antico Israele come una donna una donna che era chiamata a comunicare a tutta l'umanità salvezza l'aveva concepita questa salvezza per opera stessa di Dio e fino a un certo punto pareva proprio che riuscisse tutto sembrava andare bene la donna aveva avuto le doglie aspettava che venisse alla luce un bambino e invece vento tutto è stato vano fatica inutile ben diverso è ciò che avviene nella visione di Giovanni perché qui si vede che questa donna è incinta sì in greco abbiamo engastri ecusa cioè è una donna che ha nel ventre ecusa è al presente quindi indica una situazione permanente purtroppo oserei dire non è un parto veloce la gravidanza si protrae nel tempo anzi si potrebbe dire che lungo la storia c'è una gravidanza continua ma anche una fecondità perenne però questo crea trepidazione paura la preoccupazione è motivata dal fatto appunto che il parto dura e fa male c'è il verbo odinusa che è un participio presente sta partorendo è un parto che si protrae nel tempo ed è doloroso perché questa donna è tormentata grida per il dolore però diversamente da quell'immagine della profezia di Isaia che vi ho letto prima lo sforzo qui non è vano la donna popolo di Dio sta mettendo al mondo un bambino questa immagine dell'antico testamento si era diffusa in tutto quel contesto soprattutto nella letteratura di taglio apocalittico si diceva in questi periodi di crisi non dimentichiamo che siamo sotto le persecuzioni romane quest'epoca della storia è intrisa di male di peccato di malvagità di ingiustizie però ecco la speranza deve partorire qualcosa di nuovo qualcosa di eterno di buono e ormai ci siamo Dio sta per irrompere nella storia castigare i malvagi e sta per far nascere da questa sofferenza così travolgente sta per far nascere salvezza non solo ma anche nella letteratura rabbinica del terzo del quarto secolo le cui tradizioni orali però risalgono indietro ai tempi di Gesù ai tempi dell'autore dell'Apocalisse si parlerà di dolori messianici cioè da questo parto della storia sarebbe nato alla fine dei tempi il messia mandato da Dio a portare pace shalom su tutta la terra questa era l'attesa ma nell'Apocalisse di Giovanni c'è di più perché questa speranza si sta già realizzando già ora è in atto il parto della donna popolo di Dio Odinusa è un participio presente la donna sta partorendo quindi a differenza di numerosi testi dell'Antico Testamento ma soprattutto dell'Apocalittica Giudaica la salvezza non piove semplicemente dal cielo la donna popolo di Dio deve fare la sua parte a questa è chiamata anche se questo vorrà dire per lei affrontare dei dolori lancinanti ecco le persecuzioni e questo parto è lungo è doloroso però è un parto ricordate Paolo in Romani 8 tutta la creazione geme e soffre ma quel gemito è un parto e subito noi cristiani abituati dalla liturgia a leggere questa pagina dell'Apocalisse in riferimento alla Madonna noi abituati dall'iconografia cristiana a rileggere questa pagina in riferimento alla Madonna siamo portati a dire ecco quel bambino è Gesù Cristo è il Messia di Israele e quella donna è la Madonna è Maria sì ma c'è di più la visione di Giovanni dice qualcosa di ancora più profondo e difatti i particolari di questo segno celeste sembrano andare in due direzioni interpretative perché appunto da un lato quel bambino è spontaneamente identificabile con Cristo dall'altro però quella donna abbiamo detto rappresenta il popolo di Dio dell'antica e della nuova alleanza e quindi non sembra identificabile almeno immediatamente con la Vergine Maria da cui è nato Gesù per opera dello Spirito Santo ma allora l'interpretazione ecclesiologica della donna come popolo di Dio è contraddittoria rispetto all'interpretazione cristologica quasi che appunto quel parto è il parto di Gesù insomma in che senso Cristo è messo al mondo dalla Chiesa perché questo ci sta dicendo l'autore a me non pare di trovare una contraddizione tra queste due prospettive siamo in ambito simbolico mi sembra che attraverso questa visione profetica che utilizza materiali simbolici attinti dall'antico testamento Giovanni ci stia consegnando una verità di fede molto profonda in altre parole ci sta dicendo che quella donna è la Chiesa che sta dando alla luce il Cristo totale il Cristo con il suo capo Gesù di Nazareth e con il suo corpo ma per giungere qui per giungere a decodificare così questo simbolo vedete apparentemente semplice ma in realtà complesso bisogna analizzare il secondo segno celeste vale a dire il drago grazie a tutti